di luigi pirandello la disdetta di pitagora voce di lorenzo pieri perbacco e rimettendomi il cappello mi voltai a guardare la bella sposina tra il fidanzato e la vecchia madre dri 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 ah come strillavano di felicità sull'astrico della piazza assolata nel mattino domenicale le scarpe nuove dell'amico mio e la fidanzata con l'anima tutta ridente nell'azzurro infantile degli occhietti irrequieti nelle guanci invermigliate nei denti lucenti sotto l'ombrellino sgargiante di seta rossa si faceva vento 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 quasi a smorzar le vampe della gioia e del pudore la prima volta che si mostrava così per via bambina la gente con a fianco dri 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 quel pezzo di promesso sposo esageratamente nuovo pettinato profumato e soddisfatto rimettendosi in capo il cappello piano che la pettinatura non si guastasse si voltò anche lui l'amico mio a guardarmi o che c'entrava mi vide fermo in mezzo alla piazza e chinò il capo con un sorriso impacciato risposi con un altro sorriso e un pace gesto della mano che voleva dire mi rallegro mi rallegro e fatti pochi passi mi voltai di nuovo non m'aveva fatto tanto piacere quella vispa figurina tutta accesa della piccola fidanzata quanto l'aria di lui dell'amico mio che non vedevo da circa tre anni o non si voltò anche lui a guardarmi una seconda volta che sia geloso pensai incamminandomi a capo chino ne avrebbe ragione in fin dei conti è proprio carina per bacco ma lui lui non so mi era sembrato anche più alto di statura prodigi dell'amore e poi tutto ringiovanito negli occhi specialmente nella persona così evidentemente carezzata da certe cure affettuose di cui non l'avrei mai stimato capace conoscendo lo nemico di quegli intrattenimenti intimi e curiosissimi che ogni giovinetto suole avere con la propria immagine per ore e ore davanti ad uno specchio prodigi dell'amore dove era stato in questi tre ultimi anni qua a roma prima abitava in casa di quirino renzi suo cognato che era poi il vero amico mio infatti egli per me propriamente si chiamava più il cognato di renzi che bindi di casa sua era partito per forlì due anni prima che renzi lasciasse roma e non l'avevo più riveduto ora rieccolo a roma e fidanzato ah caro mio seguitai a pensare tu non fai più certamente il pittore drì 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 le tue scarpe strillano troppo di che ti sei voltato ad altro mestiere che ti deve fruttare bene e io te ne lodo nonostante che cotesto nuovo mestiere ti abbia persuaso a prendere moglie lo rividi due o tre giorni dopo quasi alla stessa ora di nuovo insieme con la promessa sposa e la suocera altro scambio di saluti accompagnati da sorrisi inchinando lieve pur con tanta grazia il capo mi sorrise anche la sposina questa volta da quel sorriso argomentai che titoli aveva certo parlato a lungo di me delle mie famose distrazioni di mente e anche detto che quirino renzi suo cognato mi chiama pitagora perché non mangio fagioli e spiegato anche perché a moda ingiuria scherzosa si può chiamare pitagora chi non mangia fagioli eccetera eccetera cose che fanno tanto piacere ma accorsi che segretamente alla suocera questa faccenda dei fagioli e di pitagora aveva dovuto fare una buffissima impressione perché incontrandoli in seguito non so più quant'altre volte sempre tutte e tre insieme quella vecchia marmotta sbruffava proprio a ridere senza neppure curarsi di nascondere la risata dopo avere risposto al mio saluto e si voltava anche a guardarmi ridendo ancora avrei potuto ripigliare tito qualche giorno da solo a solo per domandargli se la presente felicità non offrisse a lui alla sposina e alla futura suocera alcun'altra cagione di riso e in questo caso compiangerlo ma non mi venne mai fatto desideravo inoltre da lui qualche notizia di renzi e della moglie ma ecco un bel giorno arrivarmi da forlì questo telegramma brutti guai pitagora sarò a roma domattina trovati stazione ore 8 e 20 renzi o come pensai c'è a qui il cognato e vuole essere accolto da me alla stazione feci su quel brutti guai un mondo di supposizioni tra le quali la più ragionevole mi sembrò questa che tito stesse per contrarre un pessimo matrimonio e che renzi venisse a roma per tentare di mandarglielo a monte dopo circa tre mesi di saluti e di sorrisi confesso che nutrivo già per quella bambola di sposina un'antipatia irresistibile e qualcosa di peggio per la madre il giorno appresso alle 8 ero alla stazione ed ora giudicate voi se io non sono davvero perseguitato da un destino buffone arriva il treno ed ecco renzi al finestrino d'una vettura mi precipito ma le gambe all'improvviso mi si piegano mi cascano le braccia ho con me il povero tito mi fa renzi additandomi pietosamente il cognato tito bindi quello lì come e chi avevo io dunque salutato per tre mesi lungo le vie di roma eccolo là tito a dio mio in quale stato ridotto tito tito ma come tu balbetto tito mi butta le braccia al collo e scoppia in un pianto dirotto guardo renzi a bocca aperta ma come perché mi sento impazzire renzi allora m'accenna con una mano alla fronte e sospira chiudendo gli occhi chi lui io tito chi è il pazzo su via tito esorta renzi il cognato calmati calmati aspetta un po qua tieni d'occhio queste valigie io vado con pitagora a ritirare il baule e andando mi narra sommariamente la storia miseranda del povero cognato che da circa due anni e mezzo aveva preso moglie a forlì gli erano nati due bambini uno dei quali dopo quattro mesi era accecato questa disgrazia l'impotenza di provvedere adeguatamente con l'arte sua ai bisogni della famiglia le continue liti con la suocera e con la moglie sciocca ed egoista gli avevano sconcertato il cervello ora renzi lo conduceva a roma per farlo visitare dai medici e divagarlo un po se non avessi visto con gli occhi miei tito ridotto in quello stato avrei senza dubbio creduto che renzi come tant'altre volte volesse farsi beffe di me tra lo stordimento e la pena gli confesso allora l'equivoco in cui ero caduto come io cioè fino al giorno avanti avessi salutato tito promesso sposo per le vie di roma renzi nonostante la costernazione per il non può tenersi di ridere t'assicuro gli dico io tale quale proprio lui in persona da tre mesi salutiamo e ci sorridiamo siamo divenuti amiconi ora sì ora noto la differenza ma perché tito poverino sfido non si riconosce più io saluto ogni giorno invece tito qual era prima che partisse per forlì tre anni or sono ma proprio lui sai tito tito che guarda tito che parla tito che sorride tito che cammina tito che mi riconosce e mi saluta proprio lui figurati che impressione mi ha fatto rivederlo così ora dopo averlo veduto ieri verso le quattro felice e raggiante con la sposina accanto la mia disdetta vuole che di tutto quello che io sento nessuno mai debba e voglia tener conto renzi come ho detto rideva e poco dopo per distrarre il malato gli volle raccontare questa bella avventura sentite ora che ne seguì quel poveretto rimase in prima stranamente stupito del mio abbaglio ci lavorò su un pezzo con la fantasia durante il tragitto dalla stazione all'albergo e alla fine afferrandomi per un braccio con tanto d'occhi sbarrati confitti nei miei mi gridò pitagora hai ragione mi spaventai mi provai a sorridergli che vuoi dire caro tito dico che hai ragione ripete egli senza lasciarmi con un brio di luce terribile negli occhi sempre più sbarrati non ti sei ingannato quello che tu saluti sono io proprio io pitagora che non ho mai lasciato roma mai mai chi dice il contrario è mio nemico qua qua tu hai ragione io sto qua sempre a roma giovane libero felice come tu ogni giorno mi vedi e mi saluti caro mio pitagora respiro respiro che peso mai levato dal petto grazie caro grazie grazie sono felice felice e rivolgendosi al cognato abbiamo fatto un brutto sogno quirino mio dammi dammi un bacio sento il gallo cantare di nuovo nel mio vecchio studio di roma pitagora qui presente te lo dice è vero pitagora è vero ogni giorno tu mi incontri qua a roma e che faccio io a roma dillo a quirino faccio il pittore il pittore e vendo no se mi vedi che rido vuol dire che vendo va benone viva la gioventù scapolo libero felice e la sposina mi lasciai scappare disgraziatamente senza avvertire che renzi per prudenza poco fa nella raccontargli l'equivoco aveva tralasciato questo pericoloso particolare il volto di tito s'abbuiò a un tratto mi riafferrò questa volta per tutte e due le braccia che hai detto come prendo moglie e guardò sbigottito il cognato ma che gli faccio io subito per rimediare a un cenno di renzi ma caro tito so bene che tu scherzi con quella marmottina scherzo a scherzo dici incalzò tito infuriandosi stravolgendo gli occhi agitando le pugna dove sono dove sto dove mi vedi bastonami come un cane se mi vedi scherzare con una donna non si scherza con le donne si comincia sempre così pitagora mio e poi e poi scoppiò di nuovo impianto coprandosi il volto con le mani in vano io e renzi cercammo di quietarlo di consolarlo no no ci rispondeva se prendo moglie anche qui a roma sono rovinato rovinato vedi come mi sono ridotto a forlì caro pitagora salvami 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 per carità ad ogni costo bisogna impedirmelo subito anche lì ho cominciato scherzando e tremava tutto come per brividi di febbre ma se noi siamo qui per pochi giorni soltanto gli disse renzi il tempo di contrattare con due o tre signori per l'acquisto dei tuoi quadri come sera rimasti ce ne torneremo subito a forlì e non gioverà nulla rispose tito con un gesto disperato delle braccia ce ne torneremo a forlì e pitagora seguiterà pur sempre a vedermi qua a roma come vuoi che sia altrimenti vivo qua sempre a roma quirino mio anche stando me ne lì sempre a roma sempre a roma negli anni miei belli scapolo libero felice come appunto ma visto pitagora ieri stesso non è vero eppure ieri noi eravamo a forlì vedi che non dico bugie commosso esasperato quirino renzi scosse rabbiosamente la testa e strizzò gli occhi per frenare le lacrime finora la pazzia del cognato non gli si era palesata in così disperate proporzioni via via rispose tito rivolgendosi a me andiamo conducimi subito dove tu mi suoli vedere andiamo al mio studio in via sardegna a quest'ora ci sarò voglio sperare che a quest'ora non sarò dalla sposina ma come se sei qui con noi tito mio esclamai io sorridendo con la speranza di richiamarlo in sé dici sul serio non sai che io la specialità degli equivoci ho scambiato per te un signore che ti somiglia sono io infame traditore mi gridò allora il povero pazzo con gli occhi lampeggianti e con un gesto di minaccia vedi questo pover uomo io l'ho ingannato ho sposato senza dirgliene nulla ora tu vorresti forse ingannare anche me di la verità sei d'accordo con lui gli tieni mano vuoi farmi sposare di nascosto conducimi in via sardegna già so la via ci vado da me per non farlo andar solo fumo costretti ad accompagnarlo via facendo gli dissi scusa ma non ricordi che non ci stai più in via sardegna s'arrestò perplesso a questa mia osservazione mi guardò un tratto accigliato poi disse e dove sto questo tu puoi saperlo meglio di me io ho bella come vuoi che lo sappia se non lo sai neanche tu la risposta mi parve convincentissima e tale da tenerlo fermo e inchiodato lì non sapevo che i cosiddetti pazzi posseggono anch'essi quella complicatissima macchinetta cava pensieri che si chiama logica in perfetta funzione forse più della nostra in quanto come la nostra non si arresta mai neppur di fronte alle più inammissibili deduzioni io se non so neppure che stia per prendere moglie che vuoi che sappia io da forlì ciò che faccio qua solo a roma libero come un tempo lo saprai tu che mi vedi tutti i giorni andiamo andiamo conducimi mi affido a te e andando di tratto in tratto si voltava a guardarmi con una muta supplichevole interrogazione negli occhi che mi passava il cuore perché con quegli occhi mi diceva che andava in cerca di se stesso per le vie di roma in cerca di quell'altro sé libero e felice del buon tempo andato e mi domandava se io lo scorgessi in qualche parte poiché egli lo cercava con gli occhi miei che fino a ieri lo avevano veduto un'inquietudine angosciosa s'era impadronita di me se per disgrazia pensavo ci avvenisse di imbatterci in quell'altro lo riconoscerebbe senza dubbio la somiglianza è così evidente e perfetta e poi con quelle scarpe che strillano ad ogni passo quell'animale fa voltare tutta la gente e mi pareva di sentire da un momento all'altro dietro di me il drì 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 di quelle scarpe maledette poteva non darsi il caso ma neanche a dirlo renzi era entrato in un negozio a comperare non so che cosa io e titolo aspettavamo sulla via era già quasi sera guardavo impaziente il negozio da cui renzi doveva uscire e ogni minuto d'attesa lì fermi mi sapeva un'ora quando a un tratto mi sento tirare per la giacca e vedo titolo con la bocca aperta a un sorriso muto di beatitudine povero figliuolo e con due grosse lacrime che gli gocciolavano dagli occhi chiari ilari parlanti lo aveva scorto me lo additava lì a due passi da noi solo fermo sullo stesso marciapiede mettetevi un po una volta sola almeno ne panni miei senza ridere quel signore nel vedersi guardato e additato a quel modo si turbò ma poi accorgendosi di me mi salutò al solito tanto garbato poverino io mi provai a fargli un cenno di nascosto mentre con l'altra mano cercavo di trascinarmi via tito non ci fu verso per fortuna colui aveva compreso il mio cenno e sorrideva aveva però compreso soltanto che il mio compagno era pazzo non sarà affatto riconosciuto nelle fattezze di tito mentre questi sì subito in quelle di lui sfido erano le sue di tre anni fa era lui stesso che finalmente si incontrava qual era stato non più di tre anni fa e gli s'era accostato e lo contemplava estatico e lo accarezzava nelle braccia e nel petto pian piano sussurrandogli come sei bello come sei bello questo è il nostro caro pitagora vedi quel signore mi guardava e sorrideva imbarazzato e timoroso io per tranquillarlo gli sorrisi addolorato non l'avessi mai fatto tito notò quel nostro sorriso e sospettando subito qualche intesa fra noi due si rivolse minaccioso a colui non prendere moglie imbecille mi rovini vuoi ridurti come me straccione e disperato lascia quella ragazza non ci scherzare stupido ma scalzone senza esperienza ma insomma gridò quel poveretto rivolto a me vedendo la gente a correre curiosa stupita tutti intorno a noi io ebbi appena il tempo di dire lo compatisca tito mi fu sopra taci traditore e mi diede uno spintone poi si rivolse di nuovo a colui con tono dimesso persuasivo no calmati per carità ascoltami sei focoso lo so ma io debbo impedirti di trarmi alla rovina una seconda volta a questo punto renzi accorse cacciandosi tra la ressa chiamando forte tito tito che è accaduto che gli rispose il povero bindi guardalo eccolo là vuole riprender moglie diglielo tu che gli nascerà un bambino cieco diglielo che renzi a viva forza se lo trascinò via poco dopo io dovetti spiegare ogni cosa a quel signore ma aspettavo che ne dovesse sorridere ma non fu così mi domandò costernato ma mi somiglia dunque tanto veramente a ora no gli disposi ma se lo avesse veduto prima tre anni fa a scapolo qua a roma lei in persona speriamo allora che fra tre anni disse io non debba ridurmi come lui dopo tutto questo avevo sì o no il diritto di credere che tutto fosse finito ebbene no signori ho ricevuto l'altro ieri dopo circa due mesi dall'incontro che ho narrato una cartolina firmata ermanno leverà dice così caro signore annunzi a quel tale bindi che è stato obbedito non ho potuto più dimenticarlo mi è rimasto davanti come lo spettro del mio destino imminente ho sconcluso il matrimonio e parto domani per l'america suo ermanno leverà ecco se io non lo avessi salutato povero giovine scambiandolo per quell'altro a quest'ora chissà egli potrebbe essere un marito felice chissà tutto può darsi a questo mondo anche certi miracoli ma penso che se l'incontro con quell'altro potesse lui tanto da produrre un tale effetto anche egli dovette credere di incontrare nel bindi se stesso quale sarebbe stato fra tre anni e fino a prova contraria non posso in coscienza asserire che questo signor leverà sia anche lui pazzo ma aspetto intanto che uno di questi giorni mi capiti la visita della sposina abbandonata e della mancata suocera le spedisco tutte e due a forlì parola d'onore chissà che non si riconosceranno anche loro nella moglie e nella suocera del povero tito bindi ormai pare anche a me che siano tutti realmente una cosa sola con soltanto quel bambino cieco in più che qua se dio vuole non nascerà se è vero che questo signor leverà è partito ieri per l'america